buonasera ben arrivati ciao già vedo che qualcuno è collegato ciao Antonella sempre puntualissima Bianca Cristina ciao ben arrivati stasera parliamo di un amore di Dino Buzzati la lettura che abbiamo fatto con il GDL dedicato ai classici nel mese di febbraio ciao Alessandro a proposito del libro vedo che c'è già un commento subito benissimo dai lo metto subito in evidenza bellissimo libro tra i miei preferiti le ultime pagine le centellinevo per non arrivare alla fine Dino Buzzati grazie per questo parere Vincenzo sì in effetti noi arriviamo a questo libro dopo aver già letto un'altra cosa di Dino Buzzati e mi sembra che nella live di stasera ci saranno un po' di cosine di cui parlare ciao a tutti man mano che arrivate spero che vada tutto bene ne approfitto anche per dirvi che martedì il martedì vorrei che diventasse un po' la nostra giornata la nostra serata e come ho fatto anche altre volte vi vorrei proporre appunto dei video in diretta di vario genere oggi abbiamo appuntato il gruppo del GDL però ehm la prossima settimana ci sarà un altro appuntamento quindi segnarvi che martedì prossimo più o meno quest'ora poi vediamo magari mezz'ora prima se possibile comunque bene o male siamo lì avrò ospite il professore Sumare che qualcuno di voi ricorderà perché già aveva partecipato ad un incontro qui sul canale eh professore Sumare è un esperto di lingua cultura giapponese e traduttore per diverse case editrici fra cui l'indau l'altra volta avevamo parlato di un suo ultimo libro eh sul giappone sconosciuto quindi superstizioni e tradizioni anche legate all'ambito del folklore eh della cultura popolare non solo eh invece questa volta parleremo di cultura pop giapponese contemporanea lui è un grandissimo esperto quindi sarà anche l'occasione per potergli fare delle domande se avete delle curiosità riguardo questo mondo sapete che a me il mondo del paese del sollevante affascina moltissimo non soltanto per la lingua ma anche proprio per la cultura quindi vi invito appunto a partecipare alla diretta che sarà un'arte di prossimo qui eh più o meno a quest'ora poi vi aggiorno tramite i vari social un gruppo facebook e quant'altro per parlare di Giappone oggi però parliamo di un libro italiano eh italianissimo ciao a tutti man mano che arrivate il libro che abbiamo letto con il nostro gruppo di lettura il mese di febbraio so che c'erano tante persone nuove che si sono aggiunte per la prima volta alla nostra lettura di gruppo quindi ne approfitto anche per dar loro il benvenuto e il libro è questo qui un amore di Dino Buzzati abbiamo scelto questo libro in realtà avete accolto la mia proposta dopo la lettura del mese di gennaio perché a gennaio avevamo votato avevo proposto vari titoli voi avete votato la boutique del mistero una raccolta di racconti che comprende un po' il meglio di Dino Buzzati l'abbiamo letta insieme e eh io avevo manifestato il desiderio di continuare a leggere altro di Dino Buzzati perché mi sembrava che eh quel libro appunto non fosse abbastanza è come se avessi avuto un pochino l'antipasto io l'avevo letto diversi anni fa la boutique del mistero alcuni racconti li avevo particolarmente impressi anche perché poi ho continuato a utilizzarli anche per lavoro le ho letti ai miei alunni alle mie alunne però poi non avevo sentito prima la l'esigenza di approfondire maggiormente Dino Buzzati è arrivato sicuramente il suo momento ve l'ho detto io sono stata nel piano della dinomania a gennaio e anche a febbraio è praticamente ho letto tutto quello che eh ha scritto per quanto riguarda la narrativa non la saggistica non gli articoli giornalistici qualcosina ma sicuramente non tutto però ho letto eh le sue opere di narrativa e in particolare questo romanzo lo abbiamo letto insieme e io vorrei che stasera appunto eh i veri protagonisti foste voi cioè mi piacerebbe sapere le impressioni che avete avuto alcune le ho già lette nel gruppo facebook però eh penso che questa sia la sede ideale perché poi anche chi viene a recuperare questo video in un secondo momento può poi mh scorrendo appunto eh la chat avere ulteriori suggestioni confronti io riassumo molto rapidamente la trama così ma tanto la conosciamo tutti protagonista di questa storia è un architetto di poco meno di cinquant'anni piuttosto insoddisfatto dalla vita lui si chiama Dorigo Antonio Dorigo e per riempire un po' questo vuoto delle sue giornate comincia a frequentare eh delle case d'appuntamenti qui eh abitudine che lui in realtà coltivava già da tempo non è niente di nuovo però qualcosa di nuovo accade accade qualcosa di nuovo perché per la prima volta eh non è più vero che una ragazza vale l'altra eh ma comincia a provare nei confronti di una ragazza in particolare una minorenne definita nel corso del libro in tanti modi ma anche maschietta così come un termine molto adoperato eh in certi contesti all'epoca e prova per lei un'attrazione fortissima come appunto non aveva mai provato prima che per lui è quasi inspiegabile perché appunto mh fino ad allora eh queste compagnie molto transeunti momentane sono state poco significative invece l'Aide il nome di questa ragazza l'Aide è il diminutivo di Adelaide comincia a diventare un chiodo fisso nella sua testa al punto tale che eh lui ne è totalmente ossessionato e arriva persino a proporle di dedicargli del tempo ogni settimana in cambio di una sorta di stipendio di di compenso una cosa veramente incredibile sulla trama non mi dilungherò più di tanto perché penso che siate d'accordo questo non è un romanzo dove ciò che conta più che altro è la trama cioè non è che ti tenga con il fiato sospeso perché vuoi sapere come va a finire perlomeno non per quanto mi riguarda quello che guida sono proprio i temi e i personaggi eh vediamo un pochino qui Alessandro sì certo puoi partecipare anche se non hai letto il libro noi mh insomma l'unico rischio è che possa scappare qualche spoiler perché considerato che con il gruppo di lettura eh abbiamo condiviso questa questo testo tutti sappiamo più o meno come va a finire e quindi qualche spoiler potrebbe uscire però chiaramente puoi partecipare diamo un po' i personaggi mi hanno dato sui nervi The Meg per motivi diversi me ne ho trovati fastidiosi allora soffermiamoci un pochino su questa cosa dei personaggi grazie che mi hai dato questo spunto perché in effetti questo è un romanzo in cui i personaggi sono essenzialmente pochi ci sono una serie di comparsate se ci avete fatto caso cioè personaggi che stanno lì perché hanno una funzione però poi non hanno una loro evoluzione non hanno una caratterizzazione tutto tondo cioè sono lì perché servono appunto alla narrazione come la proprietaria della casa d'appuntamenti all'inizio oppure eh il cugino della protagonista di Laide o ancora la l'amica di Laide che poi alla fine fa quel dialogo secondo me molto bello con Antonio Dorigo però i personaggi cartine quelli forti sono sicuramente Antonio e Laide due personaggi che sono degli antieroi ovviamente ma lui in modo particolare perché lui non è un personaggio eh che ispira dei sentimenti di simpatia per lo meno non non credo a me non li ha ispirati minimamente anzi è un personaggio che rappresenta per alcuni versi quel l'uomo medio quell'uomo medio che si compiace eh di poche cose e che trova eh nella soddisfazione momentanea nel chiaramente nella nella pagamento del piacere una di quelle effimere compensazioni del vivere che eh gli mancano da tanti altri punti di vista perché lui nonostante sia un professionista non prova grande eh gratificazione per il mestiere che fa e non trova nemmeno degli appigli in altri in altre direzioni e Margherita bellissimo l'elogio della prostituzione all'inizio questo è un altro eh un altro aspetto pazzesco anche perché ehm ci fa subito capire qual è la mentalità di questo Antonio Dorigo all'inizio effettivamente del libro c'è mh vero e proprio elogio della eh della prostituzione anzi io direi quasi un'apologia prima un'apologia poi un elogio perché lui comincia a mettere in mostra tutti gli aspetti positivi del ricorrere alle case chiuse alle prostitute perché eh permettono di soddisfare in maniera immediata un bisogno quindi danno un piacere istantaneo però non c'è nessun legame quindi non ci sono delle conseguenze sul lungo termine che è un personaggio come Antonio Dorigo non sarebbe in grado di gestire questo è stato uno degli aspetti più contestati di questo romanzo naturalmente e ed è stato anche mi pare che ne avevamo parlato l'altra volta ma questo è anche stato tacciato di essere un romanzo erotico ora non lo so voi che cosa ne pensate cioè secondo voi un amore di buzzati può essere definito un romanzo erotico questo è un aspetto interessante secondo me da considerare perché per molto tempo è stato definito così è stato detto questo eh mentre aspetto le vostre risposte leggo il pezzettino a cui si riferiva Margherita sulla elogio della prostituzione o apologia eh se avete questa edizione qui sta a pagina dieci che cosa meravigliosa la prostituzione pensava Dorigo crudele spietata quante ne restavano distrutte però che meravigliosa si sentava a credere che possibilità del genere potessero esistere nel mondo d'oggi così irregolamentato e squallido il sogno realizzato a un colpo di bacchetta magica per ventimila lire per ventimila lire anche per meno spesso avere subito senza la minima difficoltà e pericolo delle figliole stupende che nella vita solita fuori del gioco sarebbero costate una quantità di tempo di fatiche di soldi e poi magari al momento buono capace di bruciare il paglione mentre qui una telefonata un breve percorso in macchina sei piani di ascensore ed ecco già la minfetta stava togliendosi il reggipetto sorridendo questo è un passaggio veramente brusco perché secondo me genera anche un altro effetto di disgusto nel lettore perché oltre il fatto di andare a fare un'apologia della prostituzione è un elogio in qualche senso ma qui ricordiamoci che si sta parlando di prostitute minorenni quindi fra l'altro c'è un aspetto proprio raccapricciante per quanto riguarda il rispetto della persona che è veramente qualcosa che non può lasciare indifferente e sicuramente mi rendo conto che questo tipo di approccio alla critica dell'epoca ai lettori dell'epoca questo tipo di contenuto non è passato inosservato chiaramente è stata una una provocazione vediamo che cosa mi dice mi dite qua aspettate che mamma siete fantastici perché scrivete tantissimo e poi io blatero blatero al solito via poi mi perdo ma ora torniamo un pochino indietro allora vediamo un po' questione romanzo erotico no mi state dicendo non è affatto romanzo erotico erotico no è come lolita non è esattamente un romanzo sulla pedofilia ok sono d'accordo su questo punto nel senso che comunque siamo nell'ambito della narrativa e vanno intese le spinte narrative dell'autore anche perché e ora questo ci arriviamo questo è un romanzo che va contestualizzato secondo me per poter essere capito bene nel momento in cui esce al punto della carriera di vino buzzati cioè se questo fosse stato un romanzo d'esordio probabilmente la nostra percezione sarebbe stata totalmente diversa ma dopo aver visto quello che precede il le pubblicazioni di vino buzzati e il lavoro a cui lui è arrivato questo romanzo non può essere preso soltanto in maniera letterale come la seduzione di quest'uomo da parte di questa donna o meglio l'ossessione che nasce nella sua testa perché poi tutto tutto lui lei non fa niente in realtà è tutto un suo costrutto però va compreso poi nell'ottica della sua produzione personaggio capito fastidiosissimi per voi ok alessandro mi sembra di ricordare che in un altro video avevi detto che buzzati è stato tacciato di similplaggio non è che il bondino ha preso qualcosa di nabokov dunque la questione della la ma non plagio più che altro la paternità c'è molte volte eh la critica ha ripetuto eh le ehm le congruenze i punti in comune fra l'opera di Kafka e l'opera di buzzati quindi stiamo parlando di questi due autori e in particolare la critica si riferiva a Kafka come modello eh in relazione alle primissime opere di dino buzzati ai racconti e in particolar modo al eh deserto dei tartari quindi lì stiamo parlando di un altro autore eh e l'identificazione è stata eh immediata è stata immediata e condivisa riconosciuta da da tantissime da tantissimi critici tantissime persone il che ha anche determinato una percezione dell'opera di buzzati a mio avviso falsata perché in buzzati e ora lo posso dire con condizione di causa dopo aver letto su tutto quello che ha scritto io di Kafka ho trovato veramente poco cioè Kafka parte da un'angoscia del reale in cui tutto si esaurisce all'interno di un reale e comunque di un reale che viene percepito come potremmo dire in termini freudiani una esasperazione di un superio castrante giudicante e poi fa determinare tutta la sua poetica chiaramente questo è un aspetto poi non lo possiamo liquidare così eh però questo è sicuramente l'aspetto che pregna la sua scrittura con Kafka abbiamo questo con dino buzzati no ci troviamo davanti a dimensioni completamente diverse con dino buzzati siamo davanti a una dimensione che è più quella del del fantastico è più quella del metafisico e le incursioni angoscianti che appartengono alla realtà si vanno sempre più a protendere verso il fantastico eh io in un vi ho fatto il video non so quanti di voi hanno visto dino buzzati non era una brava persona però io non potevo non non farlo e e lì ho detto che effettivamente secondo me se proprio si deve trovare un un altro autore a cui poterlo avvicinare io direi Beckett eh non Kafka quindi non lo so ehm quanto ci sia di vero in quello che poi la critica vuole per forza più pari sulla questione di Nabokov ehm io sinceramente non ho trovato nemmeno nei libri ho consultato dei riferimenti però hm dobbiamo sempre considerare che Lolita è un romanzo che esce hm poco dopo doveva essere 54 55 se non mi sbaglio comunque siamo lì e ehm quindi un amore è del 1963 non è detto che Buzzati non l'avesse letto io personalmente non lo so se lo ha letto quindi sono molto sincera non tra tra i testi che ho consultato dove si parlava anche di critica di un amore io non ho trovato riferimenti però devo dire che quando ho letto questo passaggio qui quello che vi ho letto poco fa dove si descriveva appunto la condizione delle prostitute e qui la ehm la prostituta per la prima volta viene definita ninfetta pagina dieci viene definita eh ninfetta ecco grazie Alessandro Lolita è del 55 quindi vedi c'era 54 e 55 c'era e e quando lui la definisce ninfetta io effettivamente un richiamo a a Lolita l'ho avuto però vede tante volte sono richiami che noi facciamo anche in maniera involontaria perché abbiamo letto una certa cosa in un certo termine ce lo portiamo da da una parte e poi lo 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 trasferiamo su dell'altro bisogna avere poi eh gli strumenti eh e la consapevolezza per per esserne certi quindi io questa certezza non ce l'ho eh sicuramente è un romanzo che risente un po' anche del gusto dell'epoca c'è questa novità imbuzzati che sembra ripiegarsi completamente su una nuova tematica che è molto più realista rispetto a quello che ha fatto prima cioè se abbiamo presenti i racconti eh il deserto dei tartari ma anche il segreto del bosco vecchio o prima il romanzo che abbiamo pubblicato prima di questo il grande ritratto il grande ritratto è un romanzo di fantascienza tra l'altro un romanzo pazzesco che io non so perché non si fili mai nessuno ma è un romanzo veramente pazzesco che tratta tematiche che hanno a che fare col transumanesimo con la creazione il diritto che hanno gli uomini di dare vita a qualcosa che abbia una propria coscienza quindi c'è anche il rapporto uomo macchina è un romanzo modernissimo che a Dino Buzzati serve per elaborare la figura femminile che se ci avete fatto caso nei suoi libri precedenti praticamente non c'è cioè Dino Buzzati non ha donne le donne non ci sono che stanno facendo non si sa nelle sue opere precedenti sono tendenzialmente madri quando ci sono nei racconti o delle figure secondarie assolutamente poco determinanti i protagonisti sono sempre uomini praticamente tutte le volte sono uomini poi quale cosa un pochino cambiano infatti scriveva prima Stefania ecco mi sembra che ci sia qualcosa di autobiografico ora che cosa succede che Buzzati si sposa grande molto grande lui è più che 50enne e si sposa con una ragazza giovanissima che di anni ne ha 19 tanto che la i rotocalchi dell'epoca la chiamavano la sposa bambina pare che sia stato anche un rapporto comunque positivo piacevole fra i due o comunque questo questo si dice poi sapete certe cose lasciano un pochino il tempo che trovano comunque lui si sposa appunto con questa giovanissima e evidentemente c'è qualcosa che un pochino fa fa storcere il naso perché loro si sposano nel 1960 il romanzo esce tre anni dopo con una storia che ha un protagonista di mezza età un protagonista maschile di mezza età è una ragazza molto giovane che tra l'altro fa la prostituta quindi insomma era molto facile fare delle fare degli accostamenti però a me piace scherzare sulla vita degli scrittori e delle scrittrici lo sapete la prendo anche un po così perché credo che l'autoironia nella vita sia una grande arma di salvezza soprattutto quando le cose non vanno sempre bene però poi quando si va a guardare l'opera mi piace entrare dentro i meccanismi narrativi dell'opera stessa quando non so le cose quindi sto a guardare quello che lui ha fatto come scrittore anche perché aveva veramente un grande bagaglio alle spalle sì è con essi bellissima questa considerazione aspetta scusate perché nel frattempo leggo eccola qua il fatto che sia in un certo modo autobiografico secondo me gli toglie autorevolezza letteraria da un lato dall'altro però trasmette le sensazioni autentiche dell'animo dunque qua c'è una una questione da dire sul sull'autobiografismo presunto autobiografismo di certe opere io credo che è così mi hanno insegnato e così credo un po anche nel mio modo di accostarmi alla scrittura però in generale che non si possa del tutto scindere l'esperienza autobiografica dall'opera narrativa non sto parlando di giudizio spero di essere chiara cioè una cosa è il comportamento della persona una cosa è l'opera io l'opera la vado a considerare per quello che l'opera è che è indipendente rispetto all'esperienza biografica però è anche vero che è quella persona che ha scritto l'opera quindi in maniera conscia o in maniera inconscia in maniera voluta in maniera studiata o meno comunque qualcosa del proprio essere all'interno passa io in questo momento sto leggendo al faro oggi tal faro traduzione più corretta sarebbe al faro di virginia wolf e virginia wolf è un'autrice che ha scritto delle opere veramente meravigliose che senza conoscere la sua biografia sono praticamente inafferrabili e anche conoscendola non è che si afferrino del tutto perché lei era una maestra incredibile quindi io non credo che il fatto che ci sia una componente autobiografica gli vada a togliere autorevolezza letteraria è un'opera creata nella quale magari passano determinati vissuti determinate sensazioni questo questo sì perché no però non c'è niente di male cioè l'opera letteraria nasce comunque poi da un elaborazione del vissuto o del sentito poi si trasforma in qualcos'altro ma io credo che questo funzioni per tutto cioè penso che anche tolkien quando scrisse il signore degli anelli non ha raccontato esperienze vissute realmente e questo è naturale però nel raccontare magari i rapporti fra i personaggi o mette un determinato dettaglio che è successo a lui o che ha visto nella sua vita che poi trasforma in letteratura quindi c'è sempre comunque una confluenza perché non è che c'è una mente cosciente pensante che si estrae e compone l'opera indipendentemente dalle esperienze vissute non so se sono stata chiara spero di sì però eventualmente ditemelo che cerco di riformulare il pensiero anche perché stasera sono un po fuori fuoco perciò se non è chiarissimo ditemelo io cerco di rispiegarlo o di rispiegarmi un pochino meglio sì alessandro comunque di non buzzati non era una brava persona è come ognuno di noi tutti abbiamo luci ed ombre meno male perché se non saremmo appunto delle macchine qualcuno di voi l'ha letto il grande ritratto quello a cui mi riferivo prima perché sarebbe una lettura interessante da fare io ve la consiglio tantissimo soprattutto se avete apprezzato il vino buzzati della boutique del mistero e quello di un amore ok sono stata chiara grazie io vi ho proposto di leggere un amore perché se vi ricordate quando abbiamo fatto la la live a dicembre vi dicevo che mi piaceva l'idea di non a dicembre a gennaio scusate a gennaio mi piaceva l'idea di dare spazio ad autori autrici però facendo vedere che l'autore l'autrice non è soltanto quello che la critica tante volte identificano in casella per dire verga è verista d'annuncio è decadentista gli dobbiamo dare per forza queste caselline allora vi ho proposto di leggere opere che esulano un pochino dalla definizione dell'autore questo è stato il motivo per cui poi abbiamo scelto di leggere un amore e se ci fate caso appunto rispetto alla boutique del mistero qui ci troviamo in un contesto completamente diverso qui abbiamo un milano che è molto tangibile è vera c'è una città che a tutti gli effetti la possiamo identificare attraverso una serie di elementi dei personaggi che si muovono secondo delle direttrici spaziali facilmente identificabili anche esse è un romanzo che segue un profilo narrativo che è facilmente identificabile apprezzabile dal pubblico tant'è vero che in molti lo hanno amato quando quando uscì anche col passare del tempo potrebbe sembrare appunto un romanzo completamente diverso rispetto a quello che buzzati propone in altre sue opere se poi si arriva al finale di questo romanzo si capisce che in realtà un grande tema in comune con tutto il resto della produzione di buzzati c'è anche in un amore e secondo me questo finale gli da una veramente una spinta in su c'è un romanzo che comunque sarebbe stato apprezzabile per altri versi di per sé però questo finale non so voi che cosa ne pensate però alza alza tantissimo il livello perché abbiamo un cambiamento del significato delle intenzioni se per tutto il romanzo noi abbiamo detestato d'origo perché lo abbiamo reputato non so ossessionato viscido anche molto materiale molto basso se vogliamo nei suoi istinti nelle sue pretese molto possessivo veramente l'uomo che non vorresti avere intorno poi però arriva la fine arriva il finale e capisci che in realtà buzzati stava declinando attraverso una narrazione pseudo sentimentale relazionale quello che vogliamo fa invece un salto no non lo dico non lo dico maria rita non lo dico il finale l'ho lasciato così così per sapere che cosa ne pensate della questione finale perché io a me è piaciuto moltissimo cioè lì proprio ho detto mamma grande dino cioè dino aveva una poetica quella poetica l'ha presa e l'ha portata nello in tanti modi diversi in tanti modi diversi in tutti i suoi romanzi c'è anche nel grande ritratto e appunto vi dicevo un romanzo di fantascienza tanti mi hanno detto credo che non l'abbia detto nessuno non mi pare che qualcuno mi abbia detto di sì però vi invito veramente recuperatelo perché è un romanzo particolarissimo inaspettato vi sorprenderà di non buzzati da un altro punto di vista però troverete pure lì che in qualche modo questo tema di fondo che c'era un po accompagnato sia nei suoi racconti che anche un amore se vogliamo anche lì lo troviamo c'è questa attesa che poi la poetica di fondo è questa l'attesa non sto facendo nessuno spoiler però è questo il tema di fondo che accompagna tutto il pensiero di buzzati l'attesa in questo caso per buona parte del romanzo è l'attesa dell'amata deve essere corrisposto da questa ragazza di avere un pagamento di tipo sessuale di tipo fisico quello che vogliamo negli altri nei racconti nei romanzi è un'attesa di altre cose questa è la poetica di base di dino buzzati vedo un po voi allora per tornare al discorso di prima commento di alessandro che apprezzo e condivido l'opera di uno scrittore deve assomigliare un po a chi lo scrive altrimenti sarebbe scritto da qualcun altro perfetto non si può eludere non si può escludere totalmente l'autore dall'opera poi il fatto il giudicare un'opera sulla base della biografia dell'autore quello è tutto un altro discorso non c'entra niente però sicuramente un po del nostro vissuto c'è lì dentro in qualche modo vediamo un po se vi è piaciuto questo questo finale molto aperto molto aperto ok forse allora non era chiarissimo questo finale è un po delusa ma l'ho finito in una giornata pessima forse ero io non concentrata questo non sai come ti capisco quante volte le devo rileggere le cose perché in frattempo sto pensando a duemila altri problemi quindi capisco benissimo il finale il vino buzzati della boutique del mistero bravissima elisabetta esatto è un finale che sposta la questione dell'attesa cioè per tutto il romanzo dino buzzati ha atteso l'aide che lei ricambiasse i suoi sentimenti che lei finalmente facesse quello che diceva lui cioè quello che sia però ha per tutto il tempo ha avuto un'ossessione nella testa chiaramente vi dico cosa è arrivato a me poi se ci sono altre letture ben vengano e lui ha avuto questa ossessione per tutto il tempo per tutta la durata del romanzo e noi questa cosa arriva anche in maniera piuttosto fastidiosa piuttosto collosa perché lo troviamo insopportabile anzi guardate vi dico questa scena quando lui va alla scala e vede le ballerine io ho provato un fastidio in quella scena lì che non si può capire perché lui se vi ricordate descrive le ballerine che vede e mentre le guarda allenarsi quei movimenti che sono movimenti assolutamente privi di qualsiasi connotazione erotica perché sono esercizi quindi hanno una funzione lui invece nella sua mente in questo caso si è disturbata li travisa e li reinterpreta in una chiave erotizzata ma davvero disgustosa cioè queste ragazze che stanno facendo i loro esercizi e lui nel frattempo si fa tutti i flash mentali su le posizioni le cose e dico veramente ci possono essere tante menti che interpretano in tanti modi comunque tolta questa riflessione mia per tutta la durata del romanzo abbiamo questa sessione centrale che conduce un po spinge tutte le azioni del protagonista poi alla fine nelle ultimissime pagine anzi nelle ultime due pagine per esattezza lui ad un certo punto è come se si accorgesse che stava cercando un'altra cosa era un'altra cosa che attendeva e l'amo la ragazza gli serviva per distrarsi era una distrazione ma lui in realtà aveva era in attesa di tutt'altro quell'attesa che per lui era ossessiva era ossessionante era anche spaventosa era oh ma ma che devo farlo devo dire c'è troppa gente che non ha letto il libro devo fare sono in crisi bevo un po d'acqua e aspetto che qualcuno mi dica che devo fare vai leggo voi è un diversivo sì lei è stato un diversivo esatto perché in realtà lui era ossessionato un'altra cosa infatti nel momento in cui alla fine si distrae da lei vai simo pedro vabbè l'ha detto simo pedro in realtà non c'è solo che è una questione che è come se non ne volessimo parlare mai c'è un enorme tabù ormai abbiamo sdoganato tutti i tabù possibili perché non c'è più nessun tipo di pudore nessun tipo di vergogna ma rispetto davvero a qualsiasi questione tranne una cioè il fatto che un giorno tutti dovremmo morire questo non lo possiamo dire non lo so è una cosa che che fa forse troppa paura perché l'unica cosa che non siamo riusciti a sconfiggere sia troppa paura di questo eppure una volta se ne parlava moltissimo della morte i filosofi ne parlavano moltissimo tutti gli scrittori del passato ne trattavano c'è pensate Dante ci ha scritto a divina commedia viaggio nell'oltretomba vi racconto che cosa succede dopo che morite una cosa che apparteneva veramente alla vita e ora invece c'è una sorta di allontanamento per cui si può parlare di tutto si può sdoganare tutto però della morte non si parla perché la morte è qualcosa che l'essere umano in particolare l'uomo bianco ci occidentale eh illuminato super tecnocrate non è riuscita a sconfiggere e quindi non potendola sconfiggere continua a dimostrare quanto è invalicabile rispetto alla nostra finitezza ed ecco che non se ne parla ed ecco che i libri che ne parlano vengono scacciati o addirittura laddove questo tema c'è ed è palese è come se la nostra mente lo volesse mettere da parte però è parte del sì è parte del ciclo della vita e se abbiamo letto dino buzzati bene sappiamo che questo era un po il chiodo fisso questa attesa costante dei tartari che non arrivano mai nel castello dei tartari e l'attesa in questo caso di laide che dovrebbe arrivare ma non arriva mai è sempre questa attesa che arrivi una fine che poi ci si accorge che per tutto il tempo per tutta la vita non è fatto altro che aspettare che arrivi però non te ne volevi neanche rendere conto e questo poi si trasforma in una serie di inquietudini di piccole angosce di anche di incursioni del perturbante come lui fa benissimo soprattutto nei racconti ma non c'è pure una vita mentre la morte per lui si avvicina sì tanto è vero che lui decide di dedicarsi totalmente a questa ossessione perché siccome non riesce a capacitarsene perché è letteralmente un'angoscia esistenziale allora sostituisce questa grande paura con un'altra figura la figura di laide è una figura sostitutiva è una figura diversivo è quella figura che gli permette di fissarsi su qualcosa e non pensare a quello che gli fa più paura è un pochino come le persone come me che hanno paura di volare quando stai in aereo ti dicono guardati in film io non ce la faccio perché mi viene migrania leggiti un libro io non ce la faccio perché continuo a sentire tutti i traballamenti del mondo però ti dicono trova una cosa su cui fissarti e così ti concentri su quello e non pensi a quello di cui hai paura questo è quello che succede in particolare quando si vive una certa tensione una certa angoscia una paura per qualsiasi cosa sia e nel caso del romanzo un amore il diversivo la distrazione dicevo una canzone di negramaro la distrazione sta nelle cose troviamo una cosa che possa captare tutta la nostra attenzione e così andare avanti per spostare un po quel focus centrale c'è una poesia bellissima di Umberto Saba che tutti conosciamo per la capra per altre cose però guarda che Umberto Saba scriveva delle cose incredibili è stato uno dei poeti veramente più interessanti del novecento italiano e c'è una sezione del suo canzoniere che si intitola i prigioni e i prigioni chi sono sono delle statue di Michelangelo quindi c'è questo riferimento all'arte e è come se queste statue facessero proprio lo sforzo di venire fuori dalla pietra e ad un certo punto lui scrive questa poesia che si intitola se non mi sbaglio lo sesso comunque ogni prigione ha una determinata caratteristica da cui cerca di venire fuori e questo prigione questa poesia comincia io sono prigione di un pensiero ossesso da lui mentre fra gli altri uomini vivo mera apparenza eccetera eccetera però l'inizio è proprio questo cioè sono talmente messo in lui dentro messo questo pensiero che non riesco a venirne fuori è come questo prigione intrappolato dentro la pietra che cerca di venire fuori definendo la propria figura la propria corporeità ma non riesce a farlo perché la pietra è sempre più forte in questo caso il pensiero è sempre dominante il pensiero dominante poi per citare un altro grande della poesia italiana pure lui ossessionato in un certo periodo dall'amore o dal desiderio di essere amato era Leopardi torno a voi torno a voi l'uso della punteggiatura bellissima considerazione Raffaella l'uso della punteggiatura mi ha colpito molto comunica ansia, angoscia, tormento attesa, vero, lui faceva un grandissimo lavoro sulla punteggiatura e anche sull'uso delle congiunzioni faceva una scelta delle congiunzioni perché le congiunzioni erano un elemento di passaggio fra una dimensione e l'altra questo mese sempre per la dinomania che divagava ho anche realizzato un classico allo sul deserto dei Tartari e lì, vi dicevo, c'è questa congiunzione eppure che è una congiunzione adoperata proprio da Buzzati con l'obiettivo di far sentire il passaggio da una dimensione all'altra dalla dimensione del reale dell'attesa del reale alla dimensione del ricordo o dalla dimensione dell'immaginario della speranza del ritorno insomma queste cose qua vedete qui sì, esatto il tema dell'attesa c'è in moltissime opere di Buzzati anche in Sette Piani in moltissimi dei suoi racconti anche chiaramente il deserto dei Tartari poi diventa massimo ma io ve la continuo a buttare lì se leggerete il grande ritratto vedrete che questa cosa c'è anche là anzi per buona parte del romanzo noi stiamo lì a leggere perché vogliamo sapere dove è stato mandato il protagonista cioè il protagonista viene mandato a fare una specie di missione ma noi non capiamo dove e Buzzati è talmente bravo a instillare dei piccoli dubbi poi a tornare indietro ma perché non me lo deve dire ma vai avanti nella lettura ed è molto insinuante ed è molto funzionale vabbè poi se lo leggete fatemi fatemi sapere massimo è passato questo link alle colleghe di lettere signore Vignole mi bastoneranno perché probabilmente sì ma vabbè ce ne faremmo una ragione leggo ancora voi l'aspetto che ho apprezzato di più è il passaggio da dialoghi descrizioni a monologhi interiori così a ruota libera che sembra proprio di essere nella testa del protagonista grazie bellissima osservazione questa è una cosa che potrebbe un po' impastidire forse qualche lettore il fatto che ci siano spesso queste incursioni dentro questa mente e in questo senso proprio in questo senso sì che trovo la somiglianza ma come impressione mia con Lolita perché in Lolita di Nabokov il fatto che noi sentiamo il punto di vista del protagonista e le sue percezioni del mondo e delle situazioni in alcuni momenti risulta difficile perché stai entrando nella testa di una persona che ha una perversione ora Dorigo non è esattamente come il protagonista maschile di Lolita però comunque entrare nella sua testa in alcuni momenti è complicato mancava l'aria in alcuni passaggi anche a me anche a me perché è proprio lo scopo di questo tipo di narrativa ed è lo scopo di Buzzati quello di imbrogliarti dentro una situazione cioè lui ti vuole fare sentire come si sente il protagonista e ti fa sentire invischiato dentro una situazione dalla quale è difficile uscire è come se volesse portarti dentro una una sensazione prima ancora che è un tessuto narrativo come sta uno che è ossessionato da un pensiero che si ritorce si gira e ritorna costantemente su se stesso e poi diventa anche problematico nei confronti degli altri naturalmente ecco perché la sensazione che proviamo è quella poi anche lei comunque noi ci siamo soffermati su lui però anche lei è un personaggio che viene delineato molto bene perché insinua tanti dubbi ora non ditemi che avevate tutti capito che pensavate tutti che lei fosse sincera al cento per cento cioè io credo che qualche dubbio lo insinui io in più di un passaggio mi sono detta ma questa lo sta prendendo in giro oppure è lui che è ossessionato cioè qual è la verità lui me l'ha insinuato il dubbio di chiedermi insomma sta laide è sincera o no in più di un momento mi sono detta no non lo è se ne approfitta come non mai e poi lui è bravissimo perché quando pensi di aver capito tutto come quando c'è alla fine quella parte lì non è alla fine comunque nella seconda parte c'è quel momento in cui lui è convinto di trovarla insieme ad un altro e poi si scopre che invece era tutto nella sua testa però io lì ce l'ho avuto il momento in cui ci ho creduto perché era stato descritto precisamente ah vedi ecco no allora Margherita tu l'avevi capito avevi capito che lei lo prendeva in giro vabbè quindi l'hai inquadrata subito questa laide invece è bianca no come me alcuni momenti di sincerità glieli davamo sì in realtà a me ha fregato in più di un'occasione ma poi non tanto lei ma il modo in cui Dino Buzzati naturalmente l'ha tratteggiata Sandra anche io ho avuto dubbi che mentisse poi credevo come lui alle sue scuse ci sarebbe da fare un studio psicologico su questo forse non lo so persone più ingenue dovremmo essere un pochino più più perspicaci forse lo dico anche per me dovremmo essere forse un pochino più maliziosi ecco io però non ci riesco quindi l'ho voluto credere in più di un'occasione poi me lo sono detto erano bugie ma ma insomma dobbiamo dare la ragione ebbene quindi penso che a questo punto a questo punto possiamo salutare Dino per adesso io spero che questo incontro duplice che abbiamo fatto già a gennaio con i racconti e poi con un amore sia stato comunque piacevole per voi credo che Dino Buzzati sia stato veramente uno degli scrittori più interessanti che abbiamo avuto nel novecento e meno riconosciuti perché il fatto che oggi non rientri nel cosiddetto canone e quindi non vado a finire nei libri di scuola non venga studiato dai corsi universitari a parte delle rare situazioni illuminate però tendenzialmente è così è la dimostrazione del fatto che ancora c'è un certo peso di tipo critico che impedisce di riconoscerne tutta la tutto il talento e tutte le potenzialità io sono molto contenta di aver letto il libro insieme a voi quindi di averne potuto parlare il mio consiglio sicuramente è quello di invitarvi a continuare a leggere se non avete ancora letto il deserto dei tartari sicuramente anche il grande ritratto l'ho detto varie volte stasera i racconti sui racconti che dirvi la boutique del mistero così come i 60 racconti raccolgono un po' il meglio dei dinobuzzati però gli altri non è che vadano persi perché poi il meglio secondo un certo criterio però possono anche piacere le altre raccolte ce ne sono varie numerose la prima i sette messaggeri non ce ne sono altre comprendono alcuni racconti che poi sono stati inseriti all'interno dei 60 racconti alcuni sono stati inseriti nella boutique del mistero altri invece poi si sono persi non si trovano più quindi comunque se avete voglia di continuare con buzzati sicuramente oltre la boutique del mistero vi posso dire 60 racconti perché ce ne sono degli altri meritevoli che poi lui non ha voluto inserire all'interno della boutique e qualcos'altro ci sono anche in altre paura alla scala appunto i sette messaggeri c'è un altro che si chiama il colombre insomma i racconti voi li andate recuperando un pochino perché ci sono quelli che non sono stati appunto inseriti né nei 60 racconti che è la raccolta che ha vinto il premio strega né tanto meno nella boutique del mistero quindi si possono andare poi a recuperare un pochino così a questo punto grazie sono contenta che vi sia piaciuta la serata a questo punto passiamo alla lettura del prossimo mese allora se vi ricordate quando vi ho fatto la proposta di Buzzati avevamo proposto due titoli uno era appunto un amore di Buzzati per continuare a leggerlo perché io ho espresso questo desiderio di continuare di approfondire un po' la conoscenza di questo scrittore e l'altro era questo qua gli anni di Virginia Woolf io sarei ancora dell'idea di leggerci lei però siccome noi siamo in una bellissima democrazia vorrei appunto sentire il vostro parere quando ne abbiamo parlato lo scorso mese un po' era nata questa proposta quella di leggere appunto un amore di Buzzati adesso e di lasciare gli anni per il mese di marzo la scelta la mia proposta di Virginia Woolf degli anni a cosa è dovuta ve lo spiego pure insomma perché mi sembra corretto se avete seguito nel corso di questo mese insieme ad altri canali youtube abbiamo organizzato il progetto pezzi d'autore che è un progetto dedicato alla conoscenza più approfondita di un autore un'autrice che ha scritto molti libri nel corso della sua vita e questo mese lo abbiamo dedicato a Virginia Woolf ragion per cui vi ho detto poco fa io sto leggendo Al Faro e vorrei anche leggere gli anni perché gli anni è un romanzo diverso da tutto il resto che Virginia ha scritto gli anni è un romanzo che possiamo definire tradizionale per diversi aspetti mentre romanzi come Mrs. Dalloway come Al Faro o ancora di più Le Onde per esempio sono dei romanzi molto sperimentali nei quali lo stile predomina sulla trama e c'è una grossa componente del flusso di coscienza invece gli anni è un romanzo di tra virgolette ritorno all'ordine è un romanzo appunto più tradizionale è una sorta di saga familiare racconta le vicende di questa famiglia nel corso di una serie di anni loro si chiamano Purgiter dal 1880 fino praticamente agli inizi degli anni 30 è un romanzo che ha riscosso tantissimo successo quando è uscito Virginia Woolf era molto conosciuta quando quest'opera fu pubblicata le sue opere precedenti avevano avuto un certo successo sia di pubblico che di critica però non avevano venduto ecco diciamo in termini di copia non erano stati best seller gli anni sì è un romanzo che vende tantissime copie ora non so esattamente quante qua non ce nemmeno segnato comunque ha venduto tantissime copie ed entrò nella classifica del New York Times dei libri più venduti l'unico di Virginia Woolf a cui è toccata questa sorte in vita quindi un romanzo diverso dagli altri che ci permette magari di conoscere una autrice attraverso un'opera meno nota però contemporaneamente è un romanzo che potrebbe essere più idoneo per chi ha qualche difficoltà con questa scrittrice perché Virginia Woolf è una scrittrice appunto particolare è una scrittrice molto di stile che utilizza in maniera raffinatissima questo stream of consciousness e lo fa in una maniera che ha bisogno del tempo e anche di una certa disposizione mentale gli anni io non l'ho letto però da quello che ho studiato da quello che so dovrebbe avere un approccio decisamente diverso allora questa edizione guardate io la consiglio non lo so perché a me è stata regalata vi dico la verità me l'ha regalata un'amica qualche anno fa la traduzione di Antonio Bibò la traduttrice di Virginia Woolf più autorevole che abbiamo in Italia è Nadia Fusini e alcune opere tradotte da Nadia Fusini le trovate per Mondadori questa qua è una versione Peltrinelli un'edizione Peltrinelli io vi devo dire che non è leggibilissima cioè per me per le mie esigenze di lettura il carattere è un pochino piccolino c'è poca interlinea però insomma ho ho questo vi potrei dire di andare a valutare anche delle altre edizioni eventualmente un ebook però mi dovrei documentare prima perché questa è l'edizione che ho io e probabilmente leggerò questa se lo scegliamo però non vi so dire con precisione se è l'edizione migliore che ci sia in giro quindi ho capito che va bene questa ma nel frattempo cosa stava succedendo qua Alessandro aveva fatto una proposta leggere il romanzo più bello che sia mai stato scritto e qual è questo romanzo più bello che sia mai stato scritto infatti sono tutti curiosi pure io sono curiosa qual è questo romanzo ora vorremmo saperlo vabbè mentre Alessandro ci comunica qual è il romanzo più bello che sia mai stato scritto perché siamo tutti appesi tutti curiosi se vi va bene la proposta se non avete insomma proposte alternative se non ci sono altre cose eventualmente andiamo con Virginia per marzo e poi ad aprile ritorniamo al classico sondaggio promesso super sondaggio classico vi propongo più titoli e e poi si va ah ma qui sta andando avanti questa cosa della della suspense alessandro però io devo andare a cenare adesso perciò scrivi qual è questo romanzo perché poi io devo chiudere la live è andato un finale alternativo bellissimo ah maestre margherita tanta roba un bellissimo romanzo sicuramente non è facile cioè se se la proposta è il maestre margherita come alternativa a Virginia Woolf perché Virginia Woolf è complicata e quindi ci leggiamo il maestre margherita no c'è un romanzo bellissimo veramente bellissimo denso super denso visionario pazzesco però non è un romanzo facile come alternativa a Virginia per la complessità avrei proposto altre cose però c'hai ragione è un romanzo veramente forte che ha tantissimo da dire va bene allora io direi che per stasera ci salutiamo io vi ringrazio per essere stati qui anche per aver partecipato nel gruppo di lettura e continueremo così anche questo mese quindi ci sentiamo su Facebook magari anche se qualcuno vuole condividere le proprie letture su Instagram va benissimo aggiornamenti come va come va come non va e tutto e poi ci risentiamo per la nostra diretta la faremo fine marzo inizio inizio aprile vediamo vi ricordo che martedì prossimo siamo in diretta di nuovo quindi martedì sera potremo passarlo in compagnia ci sono diversi appuntamenti molto interessanti e variegati nel corso di questo mese vi aspetto martedì prossimo alle 21 saremo con il professore Sumare parleremo di cultura pop pop giapponese contemporanea quindi non mancate perché ci sarà da ridere l'ultima volta con la storia dei giapponesi a cavallo dei miniponi ci siamo veramente sbellicati dalle risate quindi vi aspetto la prossima settimana ciao a tutti grazie darò un bacino a tebab buona serata ciao ciao